Il derby della Romagna parla riminese. L'immobiliere Spiga si impone d'autorità al palacredito di Forlì, annichilendo con il suo marchio di fabbrica la difesa una Marco Polo Shop.it con troppi uomini al di sotto delle attese. E l'americano Whitman rischia seriamente il taglio. I Krebs partono come al solito, sbagliando qualcosina di troppo in attacco. Così il primo canestro del match di Gordon. E Roderick, e anche questa non è una novità, il primo ad accendersi in casa riminese. Dopo 5 primi e 30 secondi dalla palla 2, arrivano i primi punti della stagione di Forrai, in gol con la tripla dell'8-7. L'ultimo pari dell'incontro è frutto di un 2 su 2 libri di piazza, 15-15. Sul suono della prima sirena si sblocca Vukcevic, con una magia che indirizza il derby, 15-18 al decimo. Perché da questo momento in avanti, la Spiga resterà sempre con il naso avanti, concedendo ai cugini forlivesi la misera di 11 punti nel secondo parziale. All'intervallo lungo il tabellone segna 26-32, con la Fulgor Libertas costretta a cifre d'amatori, 28% da 2, 25% da 3. Non miglioreranno a fine match. Piazza Calamita falli, alla fine saranno 10 come i suoi punti, e prova di portare sotto i suoi, 32-34 al 21esimo i 10 secondi, dopo una tripla dell'uomo mascherato. Al trentesimo però rimine sempre al comando, 39-48. La doppia cifra di vantaggio è raggiunta dopo un 2-1 di Lollis, 41-51 al 32esimo i 19 secondi. Il massimo vantaggio nell'ultimo giro di lancette, più 15 sul 46-61, a segno Roderick a meno 54 secondi. Finisce 53-65. Chi aveva pronosticato che sotto i 70 punti avrebbero vinto i ragazzi di Kaia, si è dimostrato buon profeta. Il top scorrere Roderick, 20 punti in 24 minuti. Doppia-doppia per Lollis, 11 punti più 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Vukcevic che scrive 13.